Avrebbe tentato di uccidere, farendolo con diversi colpi di pistola calibro 9, all'addome e alle spalle, il 27enne Gianluca Desimine, originario di Terlizzi. Il quarto è stato messo a segno lo scorso 24 ottobre nei pressi della piazza, vittime 11 settembre a Tragni, in una settimana infuocata per la città, con diverse sparatorie in poche ore. Dopo mesi di serata indagini, coordinati dal sostituto procuratore di Trani, il dottor Luigi Scimè, e condotte in sinergia con il locale commissariato di polizia, i militari del nucleo operativo e radiomobile della compagnia di Trani sono riusciti a fare piena luce sull'episodio di sangue. In manette finito un pluri pregiudicato tranese di 42 anni, Salvatore Patruno, al quale in queste ore è stata notificata dai carabinieri della compagnia di Trani in un'ordinanza di custodia cautelare in carcere messa dal GIP presso il tribunale di Trani, su richiesta della locale procura della Repubblica. I particolari sono stati resi noti in conferenza stampa in procura a Trani. Ad incastrare Patruno, una serie di elementi che hanno portato l'investigatore a ritenerlo responsabile dell'attentato al giovane terlizzese, con una pistola salve, opportunamente modificata e resa offensiva, verosimilmente per questione di predominio territoriale nella conduzione di attività criminali, tra cui quella dello spaccio di sostanze stupefacenti. Nel corso delle indagini che hanno portato alla ricostruzione dell'evento, i militari hanno inoltre denunciato per favoreggiamento sette persone presenti al momento della sparatoria che, per quanto a conoscenza dei fatti, avrebbero cercato di sviare le indagini fornendo agli inquirenti dichiarazioni false o reticenti. Salvatore Patruno, associato alla casa circondale di Trani, dovrà ora rispondere delle pesanti accuse di tentato, omicidio e detenzione, porto illegale di arma da sparo clandestina.